6 MARZO, SANTI PERPETUA E FELICITAS, MARTIRI La vera festa di queste due illustri eroine della fede è domani, che è l'anniversario dell'oro martirio e trionfo, ma il ricordo dell'angelo delle scuole, Sant'Ommaso d'Aquino, risplende così luminoso il 7 marzo da quasi eclissare le due gloriose stelle dell'Africa. Di conseguenza, la Santa Sede permette ad alcune chiese di anticipare la loro festa, e di conservarla oggi. Approfittiamo di questo permesso e offriamo subito al lettore cristiano lo spettacolo glorioso, di cui Cartagine è stata teatro, nell'anno 203. Nulla potrebbe darci un'idea più chiara di quello spirito del Vangelo, secondo il quale ora stiamo studiando per conformare tutta la nostra vita. Qui ci sono due donne, due madri, Dio chiede loro grandi sacrifici, chiede loro di dargli la vita, anzi più della loro vita, e obbediscono con quella semplicità e devozione che hanno fatto sì che Abramo meritasse di essere il padre dei credenti. I loro due nomi, come osserva Sant'Agostino, sono presagio di ciò che li attende in cielo, una felicità perpetua. L'esempio che essi danno di fortezza cristiana è, di per sé, una vittoria, che assicura alla vera fede un triunfo nella terra d'Africa. San Cipriano li seguirà presto, con il suo appello audace ed eloquente ai cristiani africani, ispirandoli a morire per la loro fede, ma le sue parole, per quanto grandiose, sono meno toccanti delle poche pagine scritte dalla coraggiosa perpetua, che, pur avendo solo 22 anni, si relaziona, con tutto il possesso di sé di un angelo, le prove che dovette affrontare per Dio, e quando dovette affrettarsi verso l'anfiteatro, mise la penna nella mano di un altro, ordinandogli di andare da dove aveva lasciato, e scrivere il resto della battaglia. Mentre leggiamo queste pagine affascinanti, ci sembra di essere in compagnia dei martiri, la potenza della grazia divina, che potrebbe produrre un tale eroismo in mezzo a un popolo demoralizzato dal paganesimo, appare così grande che anche noi diventiamo coraggiosi, e il fatto stesso che gli strumenti impiegati da Dio per la distruzione del mondo pagano fossero spesso donne, non possiamo fare a meno di dire con San Giovanni Crisostomo, provo un piacere indescrivibile nel leggere gli atti dei martiri, ma quando il martire è una donna, il mio entusiasmo è raddoppiato. Per il fragile dello strumento, maggiore è la grazia, più luminoso è il trofeo, più grande è la vittoria, che questo, non a causa della sua debolezza, ma perché il diavolo è conquistato da lei, da cui una volta ci ha conquistato. Lo ha conquistato da una donna, e ora una donna lo conquista. Una volta era la sua arma, ora è il suo distruttore, corazzoso e invincibile. Quel primo peccò e morì, questa morì per non peccare. Eva fu arrossata da una promessa bugiarda e infranse la legge di Dio, la nostra eroina disdegnava vivere, quando la sua vita dipendeva da lei che infrangeva la sua fede in colui che era il suo signore più caro. Quale scusa, dopo questo, per gli uomini, se sono morbidi e codardi? Possono sperare nel perdono quando le donne hanno combattuto la santa battaglia con cuori così coraggiosi, virili e generosi? Omil. De diversi senovi testamenti locis. Le lezioni che saranno lette nella festa dei nostri due santi, ci danno i principali episodi del loro martirio. Il passaggio del racconto scritto dalla stessa perpetua, che è citato in queste lezioni, farà desiderare ad alcuni dei nostri lettori di leggere tutto ciò che ci ha lasciato. Lo troveranno nel nostro primo volume degli Atti dei Martiri. Durante il regno dell'imperatore Severo, diversi catecumeni furono arrestati a Cartagine, in Africa. Tra questi c'erano revocato il suo compagno di servizio Felicita, Saturnino e Secundulus, e Vivia Perpetua, una signora di nascita e istruzione, che era sposata con un uomo ricco. Perpetua aveva circa 22 anni e stava allattando un bambino. Ci ha lasciato i seguenti particolari del suo martirio. Non appena i nostri persecutori ci hanno arrestato, mio padre è venuto da me e, per il suo grande amore per me, ha cercato di farmi cambiare la mia risoluzione. Gli dissi, padre, non posso a consentire a definirmi diverso da quello che sono, un cristiano. A queste parole si precipitò verso di me, minacciando di strapparmi gli occhi. Ma mi colpì solo, e poi mi lasciò, quando scoprì che gli argomenti suggeritigli dal diavolo non erano di alcuna utilità. Pochi giorni dopo, fummo battezzati, e lo Spirito Santo mi ispirò a considerare questo battesimo come una preparazione per la sofferenza fisica. Passarono ancora alcuni giorni e fummo mandati in prigione. Ero terrorizzata, perché non ero abituata a tale oscurità. Presto si diffuse la notizia che dovevamo essere processati. Mio padre lasciò la città, perché aveva il cuore spezzato, e venne da me, sperando di scuotere il mio scopo. Queste erano le sue parole per me, figlia mia, abbi pietà della mia vecchiaia. Abbi pietà di tuo padre, se merito di essere chiamato padre. Pensa ai tuoi fratelli, pensa a tua madre, pensa a tuo figlio, che non può vivere quando te ne sarai andato. Rinuncia a questo folle proposito, o porterai miseria sulla tua famiglia. Mentre diceva questo, cosa che fece per amore di me, si gettò ai miei piedi, pianse amaramente, e disse che mi cercava questo, non come suo figlio, ma come sua signora. Mi sono commosso fino alle lacrime nel vedere il mio anziano genitore in questo dolore, perché sapevo che era l'unico della mia famiglia che non avrebbe gioito del mio essere un martire. Cercai di consolarlo e dissi, farò tutto ciò che Dio ordinerà. Tu sai che apparteniamo a Dio e non a noi stessi. Poi mi ha lasciato, ed era molto triste. Il giorno seguente, mentre stavamo prendendo la nostra vendetta, vennero su di noi all'improvviso e ci convocarono al processo. Abbiamo raggiunto il forum. Siamo stati costretti a montare una piattaforma. I miei compagni sono stati interrogati e hanno confessato la fede. Venne il mio turno e vidi immediatamente mio padre avvicinarsi a me, tenendo in braccio mio figlio neonato. Mi tirò fuori dalla piattaforma e mi supplicò dicendo, abbi pietà del tuo bambino. Anche Ilarion, il governatore, mi disse, abbi pietà del tuo vecchio padre, abbi pietà del tuo bambino. Offri sacrifici per gli imperatori. Gli risposi, non posso, sono un cristiano. Pertanto, egli condanna tutti noi ad essere divorati dalle bestie feroci, e noi, pieni di gioia, torniamo alla nostra prigione. Ma poiché fino ad allora avevo sempre avuto mio figlio conmi in prigione, e l'avevo nutrito al mio seno, mandò immediatamente la parola a mio padre, supplicandolo di lasciarlo venire da me. Egli rifiutò, e da quel momento, né il bambino mi chiese il seno, né io subì i disagi, perché Dio l'ha voluta così. Tutto questo è tratto dal racconto scritto lasciato dalla Beata Perpetua, e ci porta al giorno prima che fosse messa a morte. Per quanto riguarda Felicitas, era all'ottavo mese di gravidanza, quando è stata arrestata. Il giorno degli spettacoli pubblici era vicino e il timore che il suo martirio sarebbe stato rinviato a causa del suo stare con un bambino, la rendeva molto triste. Anche i suoi compagni martiri provavano molto per lei, perché non potevano sopportare il pensiero di vedere una compagna così degna delusa dalla speranza, che aveva in comune con loro, di raggiungere così presto il cielo. Unendosi, dunque, nella preghiera, essi con le lacrime hanno cercato Dio in suo favore. Era l'ultimo giorno, ma due prima degli spettacoli pubblici. Non appena la loro preghiera finì, Felicità fu colta dal dolore. Uno dei carcerieri, che ludì gemere, gridò, se questo dolore ti sembra così grande, che cosa farai quando sarai divorato dalle bestie feroci, che pretendi di non prestare attenzione quando ti è stato detto di offrire sacrificio? Ella rispose, quello che sto soffrendo ora, sono davvero io che soffro, ma là, ci sarà un altro in me, che soffrirà per me, perché io soffrirò per lui. È stata partorita da una figlia e una delle nostre sorelle ha adottato la bambina come propria. Il giorno della loro vittoria sorse. Lasciarono la loro prigione per l'anfiteatro, allegri e con i volti raggianti di gioia, come se stessero andando in paradiso. Erano eccitati, ma era per la gioia, non per la paura. L'ultima del gruppo era Perpetua. Il suo sguardo placido, la sua andatura nobile, tradirono la matrona cristiana. Passò tra la folla e non vide nessuno, perché i suoi bellissimi occhi erano fissi a terra. Al suo fianco c'era Felicitas, felice che la sua consegna sicura le permettesse di incontrare le bestie feroci. Il diavolo aveva preparato una mucca selvaggia per loro. Sono stati messi in una rete. Felicitas è stato portato avanti il primo. Fu lanciata in aria e cadde sulla schiena. Osservando che un lato del suo vestito era strappato, lo aggiustò, incurante del suo dolore, perché premuroso della sua modestia. Dopo essersi ripresa dalla caduta, si mise i capelli arruffati dallo soc, perché non era giusto che un martire vincesse il palmo della mano e avesse l'aspetto di uno distratto dal dolore. Fatto questo, si alzò. Vedendo Felicitas è molto contusa dalla sua caduta, andò da lei e, dandole la mano, la sollevò da terra. Entrambi erano ora pronti per un nuovo attacco, ma il popolo fu commosso alla pietà, e i martiri furono condotti alla porta di Sana Vivaria. Li perpetua, come una che si risveglia dal sonno, si svegliò dalla profonda estasi del suo spirito. Si guardò intorno e disse alla moltitudine stupita, quando la mucca ci attaccherà. Le dissero che li aveva già attaccati. Non riusciva a crederci, fino a quando le sue ferite e il vestito strappato le ricordarono quello che era successo. Poi, facendo cenno a suo fratello, e a un catecumeno di nome rustico, parlò loro, siate saldi nella fede, amatevi gli uni gli altri, e non rimanete scioccati dalle nostre sofferenze. Dio presto prese Secundulus da questo mondo, perché morì mentre era in prigione. Saturnino e Revocato furono esposti prima a un leopardo e poi a un orso. Saturus fu esposto a un cinghiale, e poi a un orso, che non sarebbe uscito dalla sua tana, così fu lasciato due volte il leso, ma alla fine dei giochi, fu gettato a un leopardo, che lo morse così severamente, che era tutto coperto di sangue, e mentre veniva portato via dall'anfiteatro, il popolo lo derise per questo secondo battesimo e disse, salvato, lavato. Salvato, lavato. Fu poi portato via, morendo come era, nel luogo stabilito, lì per essere spedito dalla spada, con il resto. Ma il popolo chiese che fossero ricondotti al centro dell'anfiteatro, che i loro occhi potessero banchettare con la vista e guardare la spada mentre li trafiggeva. I martiri, ascoltando la loro richiesta, si alzarono allegramente e marciarono verso il luogo dove il popolo voleva che andassero, ma prima si abbracciarono, perché il sacrificio dell'oro martirio si consumasse con il bacio solenne della pace. Tutti loro, senza nemmeno un movimento di un gemito, ricevettero il colpo dello spadacino, tranne solo Saturus, che morì per le sue precedenti ferite, e perpetua, a cui fu permesso di sentire più degli altri. Il suo boia era un novizio nel suo lavoro, e non poteva spingere la sua spada attraverso le costole, lei si lamentò leggermente, poi prese la sua mano destra, e puntando la sua spada verso la gola, gli disse che quello era il posto dove colpire. Forse era che una tale donna non poteva essere uccisa altrimenti se non con il suo stesso consenso, perché lo spirito impuro la temeva. La Santa Sede ha approvato i tre seguenti inni composti in onore dei nostri due martiri. Li uniamo sotto un'unica conclusione. Inno. La Chiesa, sposa di Cristo, celebria Santa Lode le due donne impavide, e cantare, in inni gioiosi, come il sesso debole aveva qui due cuori virili. Entrambi sono nati nella terra soleggiata dell'Africa, e ora entrambi brillano in tutto il mondo come i due gloriosi combattenti, indossando allori luminosi sulle sopracciglia. Perpetua è onorata dai suoi concittadini come di alta nascita, e aveva appena contratto un matrimonio onorevole. Ma c'era un onore molto più alto, ai suoi occhi, l'amore e il servizio di Cristo. Felicità, sebbene servisse un padrone terreno, era libera in questo, che era una serva del grande re. Come Perpetua, ha sete di battaglia, e come lei, abbatte un palmo. Perpetua fu assediata dal padre, che cercò, con lacrime e minacce, di farle rinnegare la fede. Lei, da parte sua, era piena di dolore e pietà nel vederlo vittima di un errore. Il suo bambino le fu tolto, lo baciò ed era contenta. Felicità inizia le sue sofferenze da quelle doglie crudeli che Eva, nostra madre, ha portato sulla terra. Ora, nel parto, soffre per se stessa, e geme, ma, nel suo martirio, soffre per il suo Dio, e i gioisce. La porta del cielo è spalancata a Perpetua, e a lei è permesso di guardarsi dentro. Li scopre che una gara la attende, ma che, dopo la battaglia, Dio le concederà il riposo. Vede una scala d'oro che raggiunge il palazzo del cielo, ma entrambi i suoi lati sono armati di punte, e ai suoi piedi giace un drago arrabbiato, che li divora che cadono. Ascendi, Perpetua. Non temere il drago. Calpesta il suo capo e rendilo un trampolino di lancio, per mezzo del quale puoi salire rapidamente sulla terra stellata sopra. Lì troverai un paradisi di delizie, dove il pastore amorevole accarezza le sue pecore. Tu sei la benvenuta qui, figlia mia. Così si rivolse alla martire, e poi le diede da mangiare del cibo più dolce. In un'altra visione, pensò di essere stata portata in fretta all'anfiteatro. Lì fu incontrata da un uomo, il cui volto era sgargiante e terribile da guardare. Brandi la sua spada. Lo incontrò, lo gettò a terra e gli calpestò la testa. Si udì un grido. Tu hai vinto. Vieni, prendi il premio. Ma alla fine venne il giorno glorioso della vittoria per i soldati di Cristo. Su, martiri, al campo. Perpetua e felicitas. La corte del cielo anela a ricevervi. La bestia selvaggia si avventa su di loro, lanciando, strappando e ferendo i loro teneri arti. Vedi, felicitas. La mano di tua sorella ti incoraggia a rinnovare la lotta. Dio guarda dal cielo i due coraggiosi combattenti e li chiama al premio. Il loro sangue scorre dalle ferite e i loro spiriti accelerano la loro strada verso il seno di Cristo. La spada, la spada di benvenuto, è spinta. I martiri muoiono, tutti tranne perpetua, coraggiosamente prende la mano del tremante littore, e offrendogli il suo collo, gli dice che la sua mira più sicura è lì. Andate, ora, coraggiosi di cuore, da colui che è il vostro sposo, e li godete eternamente della beatitudine che egli ha in serbo per voi. Egli ci ha dato voi come modelli, o, mostra il tuo potere e aiutaci i tuoi clienti. Gloria eterna al Padre, al Figlio e allo Spirito. Co uguale. E che ogni corone letter cristiane suoni la sua lode alla grazia concessa ai martiri. Amen. Perpetua. Felicitas. O. Nomi gloriosi e profetici, che vengono come due stelle luminose di marzo, riversando su di noi i tuoi raggi di luce e di vita. Vi si sente nei canti degli angeli, e a noi poveri i peccatori, mentre facciamo ecco su di loro sulla terra, viene detto di amare e sperare. Ci ricordi quella donna coraggiosa che, come dice la scrittura, continuò la battaglia iniziata dagli uomini, cessarono gli uomini valorosi, chi li seguirà? Una madre in Israele. Giudici 5 7, Gloria a quel potere onnipotente che ama scegliere le cose deboli del mondo per confondere i forti. 1 Corinzi 1 e 27, Gloria alla Chiesa d'Africa, figlia della Chiesa di Roma, e Gloria alla Chiesa di Cartagine, che allora non aveva ascoltato la predicazione del suo Cipriano, eppure poteva produrre due cuori così nobili. Quanto a te, Perpetua, sei tenuta in venerazione da tutto il mondo cristiano. Il tuo nome è menzionato dai sacerdoti di Dio nella Santa Messa, e così è la sua e così la tua memoria è associata al sacrificio dell'uomo Dio, per amore del quale hai dato la tua vita. E quelle pagine scritte dalla tua stessa mano, come ci rivelano il carattere generoso della tua anima. Come commentano quelle parole del Cantico, l'amore è forte come la morte. Cantico dei Cantici 8 6, è stato il tuo amore di Dio che ti ha fatto soffrire, morire e vincere. Ancor prima che l'acqua del battesimo ti toccasse, tu eri iscritto tra i martiri. Quando venne la dura prova di resistere a un padre, che ti desiderava deporre la palma del martirio, quanto coraggiosamente non hai trionfato sul tuo affetto filiale, per salvare ciò che è dovuto al Padre nostro che è nei cieli. Anzi, quando arrivò la prova più dura, quando il bambino che si nutriva del tuo seno ti fu tolto nella tua prigione, anche allora il tuo amore fu abbastanza forte per il sacrificio, come non fu quello di Abramo, quando dovette immolare il suo Isacco. I tuoi compagni martiri meritano la nostra ammirazione, sono così grandi nel loro coraggio, ma tu, caro santo, li superi tutti. Il tuo amore ti rende più che corazzoso nella tue sofferenze, ti fa dimenticare. Dov'eri tu, ti chiederemmo con le parole di Sant'Agostino, dov'eri tu, che non hai sentito il pungolo di quella bestia furiosa, chiedendo quando doveva essere, come tu non eri stato? Dov'eri tu? Che cosa hai visto, che ti ha fatto vedere non questo? Su che cosa stavi banchettando, che ti ha fatto morire di senso? Qual era l'amore che assorbiva, qual era la vista che distraeva, qual era il calice che ti inebriava? Eppure i legami di carne ti tenevano ancora, le pretese di morte erano ancora su di te, il corpo corruttibile ti appesantiva ancora. Sermone per la festa delle SS. Perpetua e felicitas, ma nostro Signore ti aveva preparato per la lotta finale, chiedendo sacrificio per mano tua. Questo rese la tua vita interamente spirituale, e diede la tua anima ad abitare, per amore, con colui, che ti aveva chiesto tutto e l'aveva ricevuto, e così vivendo in unione con Gesù, il tuo spirito era tutto tranne che estraneo al corpo che animava. Era impaziente di essere interamente con il suo bene sovrano. La tua mano desiderosa dirige la spada che ti deve liberare, e come il boia recide l'ultimo legame che ti tiene, quanto è stato volontario il tuo sacrificio, quanto cordiale è stata la tua accoglienza della morte. In verità, tu eri la valorosa, la donna forte, Proverbi 31 10, che ha vinto il serpente malvagio. La tua grandezza d'anima ti ha meritato un posto elevato tra le eroine della nostra santa fede, e per 1700 anni sei stato onorato dalla devozione entusiasta e dall'amore dei servi di Dio. E anche tu, Felicitas, ricevi l'omaggio della nostra venerazione, perché sei stato ritenuto degno di essere un compagno martire di perpetua. Tu eri una ricca matrona di Cartagini e tu una serva, eppure il battesimo e il martirio ti hanno fatto compagne e sorelle. La signora e lo schiavo si abbracciarono, perché il martirio ti ha reso uguale, e quando gli spettatori vi videro mano nella mano insieme, devono aver sentito che c'era un potere nella religione che perseguitavano, che avrebbe messo fine alla schiavitù. La potenza e la grazia di Gesù trionfarono in te, come in perpetua, e così si adempì la tua sublime risposta al pagano, che osò schernirti, che quando sarebbe venuta l'ora della prova, non saresti stato tu a soffrire, ma Cristo, che avrebbe sofferto in te. Il cielo è ora la ricompensa del tuo sacrificio, ben l'hai meritato. E quel bambino, che è nato nella tua prigione, che bambino felice di avere per sua madre un martire in cielo. Come non benediresti sia essa che la madre che l'ha adottata. O, che forma fisica in un'anima come la tua, per il regno di Dio. Luca 9 62, non una volta guardando indietro, ma sempre coraggiosamente accelerando verso colui che ti ha chiamato. La tua felicità è perpetua in cielo, la tua gloria sulla terra non cesserà mai. Ed ora, cari Santi, perpetua e felicità, intercedete per noi in questo tempo di grazia. Andate, con i palmi delle mani, al trono di Dio e supplicatelo di riversare la sua misericordia su di noi. È vero, i giorni del paganesimo sono passati, e non ci sono persecutori che chiedono a gran voce il nostro sangue. Tu, e innumerevoli altri martiri, avete vinto la fede, e che la fede è ora nostra, siamo cristiani. Ma c'è un secondo paganesimo, che ha messo radici profonde tra noi. È la fonte di quella corruzione che ormai pervade ogni rango della società, e le sue due fonte sono l'indifferenza, che raggela il cuore, e la sensualità, che induce vigliaccheria. Santi martiri. Pregate per noi affinché possiamo trarre profitto dall'esempio delle tue virtù e affinché il pensiero della tua eroica devozione ci spinga ad essere coraggiosi nei sacrifici che Dio reclama nelle nostre mani. Pregate anche per le chiese che ora si stanno fondando proprio in quel punto dell'Africa, che è stato teatro del vostro glorioso martirio, benedicili e ottieni per loro, con la tua potente intercessione, la fermezza della fede e la purezza della morale. Uguale 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 uguale. Questo testo è tratto dall'anno liturgico, scritto da Don Prosper Gueranger.